Che persona era Giovanni? Giovanni era un ragazzo che aveva rispetto per tutti, aveva pure paura di salutare le persone, era una persona molto dignitosa, rispettosa anche delle piccole cose, anche se una persona ha bisogno di portare una busta di spesa, era la persona che si mette a disposizione di tutti. Abbiamo perso un caro amico e mi dispiace dirlo, non so la colpa di chi sia, però abbiamo perso un caro e un fratello amico, è una persona bravissima, persone così, io penso che qui in mezzo al centro storico tutti lo conosciamo e l'abbiamo conosciuto e ancora non ci possiamo rassegnare perché vederlo adesso, non vederlo più è come un fulmine a ciel sereno. Che lavoro faceva Giovanni? Giovanni qualsiasi lavoro, però veniva conosciuto attraverso le agenzie di Grotone, faceva il portantino e possono dire tutte le agenzie che persona era, perché una persona umile. Aiutava la famiglia? Aiutava la famiglia perché giustamente vedendo la situazione economicamente, essendo già orfano di padre, si sale, la situazione familiare non era tanta adagiata, si accontentava di tutto, però giustamente non avendo possibilità di lavoro, qualsiasi agenzie che lo chiamava lui faceva il portantino, pensate che persona umile era, si metteva a disposizione tutte, il rispetto di che cosa parliamo noi, rispetto delle salme, una persona si ha rispetto di una salme, figuratevi che persona era Giovanni. C'è una situazione diciamo di scarso controllo nel centro storico? Nel centro storico siamo abbandonati da tutto, questo è meglio che lo sappiano le autorità, il centro storico è abbandonato da qualsiasi autorità, anche all'amministrazione comunale, quando sono venuti nel centro storico per cercare i voti, sono venuti, però c'è una abbandonata in tutto e per tutti, non c'è sorveglianza, non c'è controllo, è pure privo, c'è una telecamera lì che è chiusa, è abbandonata, però non funziona. L'autorità in questo campo, non lo so, come fanno a intervenire? Stiamo parlando del 2019, non stiamo parlando degli anni 20 e degli anni 30, che ammazzavano le persone e nessuno sapeva niente, col tutto che c'era una telecamera non funziona una telecamera, mi sembra una cosa molto, non è attendibile, mi dispiace, abbiamo perso un caro amico. Grazie di tutto.